Grazie Presidente, molte delle cose che dovevo dire, il suono non funziona ma il mio non sta su Presidente della Russia, quindi siamo pari. Un attimo, se dovete uscire fatelo pure, però se state in aula ad ascoltare il Presidente Calderoli vi prego di farlo in maniera ordinata. Prego Calderoli. Grazie Presidente, dicevo che molte delle cose sono state già dette ieri nella mia relazione, però la dichiarazione di voto va assolutamente fatta. Io sono convinto che questa piccola legge produca dei risultati giganteschi in termini di efficacia, tagliamo di 345 i membri del Parlamento, è un risultato importante, per il Parlamento stesso riducendo di 230 i deputati, 115 i senatori, contenendo anche quelli di nomina presidenziale e riducendo il numero degli eletti all'estero. Lo cito per gli interventi di ieri e per l'intervento del senatore Parrini oggi. Qualcuno vuol pensare che io possa avercela con i cittadini italiani residenti all'estero. Tanto di cappello a chi se n'è andato per motivi di lavoro, per fare impresa, per raggiungere i familiari. Tanto di cappello al diritto di voto. È giusto che votino? Assolutamente sì. Io personalmente ho detto che vorrei che votassero come gli Stati Uniti per i membri del Parlamento. La citazione per cui dovrei vergognarmi, no taxation without representation, non è stata usata da me ieri, perché quella che ho usato io ieri è no taxation, no representation. Quindi io mi vergognerò, però il senatore Parrini le deve andare da un ottorino per problemi di udito. La legge molto popolare al di fuori di questo Parlamento è assolutamente impopolare qua dentro. Diciamocelo chiaro. 115 di noi e 230 alla Camera potrebbero non tornare in funzione di quella legge. Potrebbe riguardare anche a me questa cosa qui. Quindi può riguardare assolutamente tutti. Ma questo non ci deve impedire di farla per il semplice motivo, che è una cosa giusta. Va fatta. E nonostante... E quello che dico è rappresentato plasticamente dalla foto della Commissione, del Banco delle Commissioni martedì. Dovrei dire oggi mi hanno lasciato da solo, perché ero lì da solo come un cane. Veramente non c'era nessuno, diversamente da tutti gli altri provvedimenti. Io ho portato un testo, che è la sintesi di altre proposte, ne ho presentata una singolarmente per la riduzione. C'è quella del collega Romeo Patuanelli, c'era quella del senatore Quagliariello. Io ho presentato la mia. Ma io sono assolutamente orgoglioso e posso dire che rappresenta il raggiungimento di un risultato che sto perseguendo da 29 anni. Sono quasi 30 anni. Ieri ricordavo che c'ero, come ha ricordato lei, già riuscito nel 2005, poi fu bocciato da un referendum popolare, proprio perché, come indicava lei, era inserito all'interno di una grande riforma perché ci ha portato a dire facciamo quelle misure limitate chirurgiche che sommate insieme determineranno una riforma complessiva. Ma c'è un motivo. Io questa voglia, ta voglio, che deputati e senatori, nel momento in cui voteranno, sappiano precisamente e espressamente per cosa si vada a votare e se ne assumano la responsabilità da parte e di fronte al proprio elettorato. Volete ridurli? Sì o no? Solo così probabilmente si raggiungerà anche quel quorum dei due terzi che non consentirà il referendum popolare sulla riforma costituzionale. Io mi augurerei quasi di non raggiungerlo per poter andare davanti al popolo. E questa volta, per la prima volta in un referendum, la gente saprà qual è il quesito che gli sottoponi. Vuoi tu ridurre il numero dei parlamentari? Io credo che la risposta sarà plebiscitaria da parte del popolo. Ci vogliono però dei motivi. Perché li stiamo riducendo? Io ne ho individuati tre. Primo, perché siamo troppi. Noi siamo, nell'Unione Europea, il secondo in termini di numeri tra Camera e Senato come numero di parlamentari. Siamo secondi solo, come ricordava la senatrice De Petris, al Regno Unito. Perché? Perché il Regno Unito ha 792, mi sembra, senatori perché loro sono di diritto e a vita e di nomia. E si trasmettono, si trasmettevano, perché va a esaurimento, addirittura per via ereditaria. Io non vorrei fare i confronti con i 1442 del Regno Unito. Mi raffronterai rispetto alle democrazie occidentali e noi non rappresentiamo la seconda nazione per numero di cittadini. E quindi siamo troppi. Il secondo motivo, che oggi sembra diventato quasi una colpa, è per il taglio dei costi della politica. Perché qualcuno interpreta come costi della democrazia. Guardate che 345 stipendi in meno non sono un attacco alla democrazia, sono un attacco ai costi, che è una cosa completamente diversa. E invece, paradossalmente, in Commissione in Aula, il provvedimento è stato osteggiato e attaccato perché viene fatto passare come semplice taglio dei costi della politica, come taglio dei privilegi della casta. Ah, perché questa è una colpa, essere populista. Non si deve fare un provvedimento perché rappresenterebbe una bandierina da portare alle prossime elezioni per campagna elettorale. è una colpa, io mi onoro di essere popolare e populista. E non lo dico oggi, perché nella mia storia parlamentare, deputato, senatore e di ministro, io ho avuto l'onore di tagliare il numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali. Non perché ce l'avessi coi consiglieri, ma in certe realtà c'erano più consiglieri che i cittadini che facevano parte del Comune. Mi onoro di aver tagliato consiglieri provinciali e assessori provinciali, perché erano troppi. Mi onoro di aver costretto le regioni ad aver ridotto il numero dei consiglieri regionali. Mi onoro di aver tagliato il numero delle partecipate e dei membri dei consigli d'amministrazione. Questo negli anni. Anche allora è un attacco alla democrazia rappresentativa. A voi sembra che in questi anni la democrazia ne abbia sofferto? No. Non si è accorto di niente nessuno. I cittadini sono solo che contenti. Gli organi sono più snelli, costano meno, funzionano meglio. Gli unici che sono rimasti scontenti è quelli che puntavano a quelle poltrone, a quelle cadreghe. Quelli mi spiace per loro. Ed è il terzo dei motivi che cito per sostenere questo taglio. Perché organi più magri, il famoso cavallo magro corre più forte, organi più snelli, meno pesanti, sono più efficaci e più efficienti. Sembra una frase fatta. Io porto, come prova provata di quello che sto sostenendo, il confronto tra Camera e Senato. La Camera è il doppio del numero dei parlamentari del Senato, costa il doppio in termini di bilancio, facciamo le stesse cose. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non torna. Io sostengo anche che le facciamo magari un po' meglio. Io ho fatto l'esperienza della Camera, sia come deputato, sia come membro del governo. Ogni volta che io vado alla Camera con quell'aula di 630 parlamentari, a me sembra di essere un arbitro al centro di una partita di pallone con tutte le tribune piene dove tutti non capiscono alla fine niente, si vota senza sapere probabilmente che cosa si può votare perché si è troppi. La dimostrazione più pratica viene dalla diciottesima legislatura quando sulla riforma del regolamento di Camera e Senato, che è una riforma che ha delle portate che va al di là qualche volta di una riforma costituzionale, e nella diciottesima c'erano stesse maggioranze politiche. Anzi, la Camera aveva più numeri che neanche il Senato. Medesima volontà politica. La Camera inizia due anni prima la riforma del proprio regolamento. Risultato? La Camera non cava un ragno dal buco e il Senato approva una modifica del regolamento che a tutt'oggi noi stiamo tentando di applicare, ma per me funziona. Quindi i numeri sono dalla nostra parte, non ci sono santi. Questa legge è una legge che secondo me va non approvata di più, va straapprovata. Non fosse altro, mi scusate la battuta, che finalmente quando il Parlamento in seduta comune si riunirà, anche i senatori potranno sedersi, perché l'Aula potrà contenere assolutamente tutti. Quindi io voto non convinto. Mi prego di lasciarlo concludere, Senatore, le ho già dato un po' di tempo in più, la prego di avviarsi alla conclusione. Io concludo, Senatore, però la matematica è matematica, se si usano i posti del Governo, ci saranno anche i posti per i 58 grandi elettori regionali e ci staremmo tutti. Comunque io voto convinto sì, straconvinto per il sì, ciascuno poi voterà per quello che vuole. Votate astenuti, grazie, ma non nascondetevi dietro al discorso della difesa della democrazia, della democrazia rappresentativa, del bicameralismo e tutto il resto. Perché chi vota no o chi si astiene lo fa per difendere la propria cadrega e il proprio stipendio. Grazie. Grazie. Buon riduttivo. Bene. E' iscritto a parlare.